Council on Foreign Relations. Il governo mondiale segreto? Nei tempi attuali, in cui in tutto il mondo si sta portando avanti una politica sul coronavirus quasi perfettamente sincronizzata, alcuni si strofinano gli occhi per lo stupore e si chiedono il perché di questo. Anche se le misure sono gestite in modo leggermente diverso a livello nazionale, lo stesso approccio venne adottato a livello globale su come combattere il problema della pandemia. La situazione è simile con la politica estera europea, che per anni ha seguito la politica estera degli Stati Uniti, o almeno ne ha adottato la visione e la retorica quasi uno a uno. Ne sono un esempio le sanzioni dell'UE contro la Russia, soprattutto dopo la crisi ucraina del 2014, o le sanzioni contro l'Iran. Colpisce anche che la politica e la stampa americana ed europea siano allineate quando si tratta di diffamare capi di Stato e governi scradevoli, come quelli di Russia, Pielorussia, Cina, Corea del Nord, Iran, Siria o Venezuela. Questa crescente unificazione della politica mondiale è solo una coincidenza o fa parte di un'agenda globale? Chiunque voglia rispondere a questa domanda non può non considerare il Council on Foreign Relations. Questo think tank statunitense ha celebrato il suo centesimo anniversario il 29 luglio 2021 ed è considerato una delle organizzazioni private più influenti al mondo. I think tank sono associazioni che sviluppano idee e strategie politiche e le introducono nella politica. Anche se il potere del CFR è innegabile, è probabilmente assolutamente sconosciuto al cittadino medio. Diamo un'occhiata più da vicino a questa organizzazione. Dietro il modesto nome Council on Foreign Relations si nasconde così tanto potere che la rivista The Spiegel la descrisse già nel 1975 come l'istituzione privata più influente in America e nel mondo occidentale. Wikipedia scrive che il lavoro di questa rete è stato decisivo per la politica estera e la diplomazia americana nel XX secolo. Non è una coincidenza. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fu il Council on Foreign Relations a progettare le condizioni quadro delle Nazioni Unite e il piano Marshall. Ancora oggi i membri del Consiglio occupano posizioni chiave nel governo degli Stati Uniti. Non sorprende quindi che la rivista Foreign Affairs pubblicata del CFR si è considerata la rivista di strategie della politica estera degli Stati Uniti ed è stata descritta come la Bibbia del pensiero in politica estera dal quotidiano Washington Post. Ma come fa un'associazione di privati ad avere un'influenza così enorme sulla politica estera degli Stati Uniti e quindi sulla politica mondiale? Per capire il potere e lo spirito che soffia nel CFR torniamo indietro nella storia e diamo uno sguardo alle origini del think tank. Il network di ricerca Swiss Policy Research descrive il momento della fondazione come segue. L'origine del Council on Foreign Relations risiede nel cosiddetto trauma del 1920. Dopo la Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti avrebbero potuto assumere per la prima volta il ruolo di leader mondiale, ma il Senato decise di non aderire alla Società delle Nazioni e la popolazione stanca della guerra elesse Warren G. Harding, un presidente che promise un ritorno alla normalità e che voleva occuparsi innanzitutto degli affari e dei problemi dell'America e degli americani. Al fine di evitare in futuro una tale retromarcia e per risvegliare l'America e i suoi doveri mondiali, banchieri, imprenditori e politici di orientamento internazionale fondarono l'anno seguente il cross-partitico CFR nella metropoli finanziaria e commerciale di New York. Attraverso la collaborazione di importanti accademici e pubblicisti sarebbero state sviluppate idee per una politica estera attiva e rese gradita presso il pubblico. Questo rivela un fattore essenziale che ha catapoltato il CFR così rapidamente nel centro del potere. Era in un certo senso figlio di rappresentanti dell'alta finanza statunitense, uomini, in altre parole, che avevano denaro e influenza e politica in abbondanza. Tiamo ora uno sguardo più da vicino a tre uomini che possono essere considerati figure fondamentali del CFR. Edward Mandelhouse House è un buon esempio del potere e dello spirito che si ritrovano nel CFR. Era il consigliere personale dell'allora presidente americano Woodrow Wilson e, altrettanto importante e forza decisiva, dietro la RIIA. Il Royal Institute of International Affairs, a sua volta, era un'organizzazione fondata nel 1919 unicamente per costruire un impero mondiale anglo-americano. Perché, secondo Cecil Rhodes, il capostipite di questa idea, gli inglesi erano la razza guida del mondo e sarebbe stato tanto meglio per il mondo quanti più inglesi lo abitassero. Walter Lipman Lipman è considerato uno degli scrittori politici più influenti del XX secolo. Il suo modo di pensare è caratteristico del CFR. All'età di 26 anni rivendicava già la supremazia globale degli Stati Uniti e l'influenza delle corporazioni americane su quelle internazionali. Il suo libro, L'opinione pubblica, è ormai un'opera classica e mostra quale idee avesse in mente Lipman. Poiché la realtà sarebbe troppo complessa e le grandi masse non sarebbero né capaci né disposte a definire l'interesse generale, un gruppo specializzato di persone dovrebbe consigliare i responsabili delle decisioni politiche. Questi, a loro volta, dovrebbero padroneggiare l'arte della persuasione, chiamiamola tecnica della manipolazione, per far apparire alla gente le decisioni prese come fossero le giuste. In questo modo dovrebbe crearsi un'opinione pubblica uniforme che sarebbe necessaria per la coesione della società. Con questa teoria elitaria, Lipman mise radicalmente in discussione l'essenza della democrazia, cioè il diritto di parola, di tutti i cittadini. Inoltre, Lipman era membro della Fabian Society, un'organizzazione socialista che sosteneva l'eugenica, cioè la selezione dei geni buoni dell'umanità. Il discendente dell'anonima dinastia di banchieri era un uomo potente e ricercato anche prima della fondazione del CFR. Era stato lui a promuovere la fondazione di una banca centrale americana nel 1903. Con l'attuazione della sua idea nacque la Federal Reserve Bank, chiamata anche FED, una banca centrale di proprietà di banche private che presta denaro allo Stato americano. Un'organizzazione superpotente, quindi che, secondo i critici, ha sempre avuto una stretta presa sulla politica statunitense, poiché il governo degli Stati Uniti dipende in qualità di debitore dalla FED. Del figlio di Warburg e membro del CFR, James Warburg, è famosa la seguente ed eloquente citazione. Avremo un governo mondiale? Che ci piaccia o no? L'unica questione è se il governo mondiale sarà raggiunto con la conquista del popolo o con il suo consenso. Il successo di questi signori non si è fatto attendere. Già durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè circa 20 anni dopo la sua fondazione, l'influenza di questi importanti accademici e pubblicisti sul governo degli Stati Uniti era diventata così grande da determinare essenzialmente la politica estera degli Stati Uniti, la strategia di guerra degli Stati Uniti, i principi dell'ordine post bellico e quindi anche i principi dell'ONU, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale erano opera del Consul. Tuttavia, pur avendo in mano la politica estera degli Stati Uniti, non erano ancora soddisfatti, tantomeno quando la sfera di influenza statunitense si è stesa all'Europa e all'Asia orientale con la vittoria degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Tenendo in mente l'obiettivo di un governo mondiale, furono creati delle reti di elite in tutto il mondo per costruire elite regionali fedeli alla linea del CFR. Per essere in grado di espandere e controllare la sua influenza a livello globale, il CFR utilizza tra le altre le seguenti tre aree di potere. La conferenza Bilderberg Secondo Swiss Policy Research, il membro del CFR Charles Jackson ha fondato la conferenza Bilderberg nel 1954, che da allora si tiene ogni anno. Il suo scopo è quello di riunire le elite americane ed europee. In realtà è più appropriato parlare di uniformizzazione. Personalità di alto livello del mondo dell'economia, della politica, dei militari, delle media, delle università, della nobiltà e dei servizi segreti si incontrano qui regolarmente per discutere di questioni politiche, economiche e sociali attuali. Ciò che è sospetto in questa riunione dei potenti è che la cosiddetta Chetam House Rule si applica alla riunione. Questa regola stabilisce che si può parlare del contenuto della conferenza solo se non si discute l'identità e l'affilazione degli altri partecipanti. Tuttavia, di solito non si arriva a tanto. Fino ad oggi il pubblico non ha mai saputo cosa è stato effettivamente deciso nelle conferenze o attuato dai loro membri. Anche i media mainstream, i cui rappresentanti partecipano alla conferenza ogni anno, si attengono alla regola. Per lo più si limitano a riferire di una riunione dei potenti e a chiamare i complottisti, i critici e gli scettici. Siccome attraverso i media alternativi è aumentata la consapevolezza riguardo a queste conferenze, i Bilderbergers hanno fatto alcune ammissioni. Nel 2010, la conferenza Bilderberg è andata online con un sito web. In seguito, la lista dei partecipanti è stata pubblicata lì ogni volta, ma inizialmente solo dopo la conferenza. Gli argomenti che sarebbero stati discussi sono stati aggiunti in seguito. Nel frattempo, una lista di partecipanti e di argomenti viene persino annunciata in anticipo. Con queste apparenti ammissioni, i veri motivi delle conferenze potevano e possono essere tenuti segreti. L'influenza globale che la conferenza deve avere non è solo evidente dalle liste dei partecipanti, ma anche dal fatto che sembra essere un vero e proprio trampolino di lancio per i politici europei sulla scena mondiale. Angela Merkel, cancelliere tedesco, Emmanuel Macron, presidente della Francia, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno tutti assunto i loro rispettivi incarichi dopo aver partecipato a una conferenza a Billeberg, per citarne sono alcuni. Una lista più completa è mostrata alla fine di questo documentario. Commissione trilaterale Mentre le conferenze Billeberg hanno riunito le elite europee e americane a partire dal 1954, la Commissione trilaterale è stata fondata nel 1972. Serviva lo stesso scopo, ma il concetto di mettere in riga le elite regionale era ora esteso alla regione asiatica. Naturalmente non è così che si presenta. Il suo sito web dice che una forma più condivisa di leadership è necessaria al sistema internazionale per affrontare con successo le grandi sfide dei prossimi anni. Così circa 400 membri molto influenti della rea economica americana, europea e asiatico-pacifica, si incontrano annualmente. Si tratta di personalità di peso, come il francese Jean-Claude Trichet, ex capo della Banca Centrale Europea, o gli americani Henry Kissinger, ex secretario di Stato americano e presunto criminale di guerra, Larry Fink, CEO del gigante finanziario BlackRock, e la sua compatriota Marne Levin, ex dirigente di Instagram. Megan O'Sullivan, presidente del gruppo nordamericano dei trilaterali, ha descritto l'approccio della Commissione nel 2019 come segue. Dobbiamo andare avanti, sì che riusciamo o meno a far accettare ai nostri governi le nostre prescrizioni e raccomandazioni. David Rocafella, uno dei padri intellettuali della Commissione Trilaterale e direttore di lunga data del CFR, è stato ancora più diretto nel descrivere le pretese di potere di questi circoli elitari. Nel suo libro Memorie ha scritto «Alcuni credono addirittura che facciamo parte di una cabala segreta che lavora contro i migliori interessi degli Stati Uniti. Accusano me e la mia famiglia di essere internazionalisti e di cospirare con altri nel mondo per creare una struttura politica ed economica globale più unita. One world, un mondo, se volete. Se questa è l'accusa, mi dichiaro colpevole e ne sono orgoglioso». Amministrazione USA Questo potere e influenza possono essere messi in luce più chiaramente con l'esempio dei governi degli Stati Uniti. John McCloy, ex presidente del CFR e consiglieri di diversi presidenti degli Stati Uniti, una volta l'ha missi così. Ogni volta che avevamo bisogno di un uomo a Washington, semplicemente sfoglievamo la lista dei membri del Consiglio e facevamo una telefonata a New York. Le file del CFR hanno prodotto 8 presidenti e vicepresidenti degli Stati Uniti, 17 segretari di Stato, 20 segretari della difesa, 18 segretari del Tesoro e 15 direttori della CIA. La storia moderna degli Stati Uniti, che è pesantemente carica di guerre e crimini di guerra, è quindi anche strettamente legata al Council on Foreign Relations. Ma non influenza solo il governo degli Stati Uniti, anche i media statunitensi sono diventati il suo portavoce attraverso l'appartenenza al CFR di molti dei suoi redattori e giornalisti di rango. Da questa prospettiva, diventa improvvisamente comprensibile il fatto che l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva dichiarato guerra all'establishment quando è entrato in carica, sia stato così estericamente attaccato. Trump non è un membro del CFR e le sue politiche sono state spesso in contrasto con gli interessi globalisti del Consiglio. Ora è altrettanto ovvio che dall'elezione del nuovo presidente la calma è tornata alla stampa. Molti dei membri del gabinetto di Joe Biden sono membri del CFR. Oggi, gli Stati Uniti sono esattamente ciò che Isaiah Bowman, uno dei padri fondatori del CFR, aveva in mente. Una potenza mondiale che si considera il custode della sicurezza mondiale. Mantiene il potere sui territori più deboli e allo stesso tempo rinuncia alle forme convenzionali di imperialismo, per esempio all'oppressione bellica diretta dei rivali. C'è solo questi tre elementi di potere e le loro azioni. Il governo degli Stati Uniti, la conferenza Bilderberg e la commissione trilaterale suggeriscono che il Council on Foreign Relations è effettivamente un'organizzazione con pretese di dominio mondiale. Tuttavia, il CFR usa anche altre reti di relazioni e informazioni per stabilire le sue rivendicazioni e i suoi interessi. Questi sono così estesi che il network di ricerca Swiss Policity Research parla di una matrice di propaganda. Il politologo Herman Ploppa ha definito il Council on Foreign Relations madre di tutti i network transatlantici. Questi network consolidano lo spirito del Consiglio soprattutto in Germania, per esempio attraverso l'associazione Atlantic Brücke. In questa associazione, fondata dal allora presidente del CFR John McCloy e dal membro del CFR Eric Warburg, giovani leader politici e giornalisti vengono introdotti al modo di pensare transatlantico. Un altro esempio è la Deutsche Gesellschaft für Haus und Politik che tradotto in inglese sarebbe German Council of Foreign Relations. Simile alla sua organizzazione madre, questo think tank fornisce consulenza politica. Media Oltre alla grande influenza del CFR sui mass media statunitensi, le sue connessioni si estendono alle principali agenzie di stampa del mondo. Il capo redattore di Thomson Reuters, David Schlesinger, è un membro del CFR, così come lo è pure Isaac Lee, membro del board della più grande agenzia del mondo, la Associated Press. Alle nostre latitudini, il reporting conforme al CFR è assicurato da affiliati transatlantici. Membri e sympathizzanti di Atlantikbrücke si possono trovare in tutto il panorama dei media tedeschi, da ARD a Frankfurt allgemeine Zeitung, da Die Zeit e Süddeutsche Zeitung a ZDF. I professionisti dei media sono ospiti frequenti alla conferenza Bilderberg, come l'ex caporedattore della NZZ Markus Spielmann, l'editore di Tamedia Pietro Supino o il direttore del gruppo Editoriale Axel Springer e se Mattias Döpfner. Infine, ma non meno importante, gli stessi membri del CFR appaiano a volte in servizi dai media locali su argomenti di diritto pubblico come esperti e naturalmente senza riferimento agli obiettivi e al modo di pensare del CFR. Come risultato di questo reporting influenzato transatlanticamente, molti cittadini comuni vedono il mondo attraverso gli occhi dell'elite di potere senza rendersene conto. Organizzazioni umanitarie Anche le organizzazioni umanitarie sono a volte molto influenzate del CFR. Le organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e Amnesty International erano o sono dirette da membri del CFR. Allo stesso modo, anche l'US National Endowment for Democracy NAD, Fondazione Nazionale per la Democrazia, e la USIAD, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale e altre organizzazioni importanti. Questo è molto significativo perché tali organizzazioni richiedono o giustificano ripetutamente le operazioni militari degli Stati Uniti o della NATO, come nel caso della Seconda Guerra del Golfo con l'aiuto della bugia dell'incubatrice, nel caso della guerra in Afghanistan e anche in Libia. Militare Swiss Policy Research scrive il CFR ha mantenuto il proprio programma di formazione degli ufficiali per decenni, tanto che ora si stima che circa il 75% di tutti gli altri ufficiali militari degli Stati Uniti sono stati formati del CFR, compresi quasi tutti i capi di Stato Maggiore, i comandanti supremi della NATO e i comandanti di zona della Seconda Guerra Mondiale. In questo modo il Consiglio si è costruito una forza armata imperiale ideologicamente adestrata di un tipo altrimenti conosciuto quasi esclusivamente dai regimi totalitari. Economia Coloro che pensano che il Consiglio sia attivo solo politicamente si sbagliano di grosso. Secondo le sue stesse informazioni, più di 120 aziende dai settori finanziario, sanitario, alimentare e industriale come Toyota Motor Corporation, il fornitore di servizi finanziari American Express, il gruppo industriale BASF, il produttore di bevande e alimentari PepsiCo o il gigante farmaceutico Johnson & Johnson partecipano al suo programma aziendale che esiste dal 1953. Anche i giganti tecnologici Facebook e Google ne fanno parte. Anche se il CFR ha solo poco più di 5.000 membri, è quasi impossibile mostrare interamente le sue connessioni. Va notato che i suoi membri si possono trovare in altre organizzazioni con influenza globale come la CIA, la Federal Reserve o la Banca Mondiale. Importanti commissioni investigative come la Commissione Warren che avrebbe dovuto scoprire l'assassino di John F. Kennedy e la Commissione sull'11 settembre ne erano anch'esse infiltrate. I risultati di queste indagini sono molto dubbi ma ancora oggi danno immagini di completa innocenza da parte del governo degli Stati Uniti su questi eventi. In breve, in linea con le parole ubiche che campeggiano su un logo della rivista Foreign Affairs del CFR questa rete è ovunque. Che una tale associazione a cui si adice praticamente il termine governo mondiale davvero lavori o voglia lavorare per il bene di tutte le persone è discutibile. Come dimostra la storia si tratta sempre dell'aumento del potere e della ricchezza accompagnato da guerre dallo smantellamento della sovranità nazionale e dal potenziamento delle cooperazioni internazionali. È notevole come un'associazione relativamente piccola si è riuscita ad accumulare un tale potere in cento anni. Senza dubbio questo è stato possibile solo perché il CFR ha tirato i suoi fili in segreto a porte chiuse. È quindi il momento di smascherare l'abuso di potere nascosto di quest'epoca. Contribuite anche voi a porre fine a questa corsa verso un governo mondiale diffondendo questi fatti e informando i vostri politici. Questi fatti in ihrem umfeld weiterverbreiten und von ihnen gewählte politiker darüber informieren. Grazie a tutti. Grazie a tutti.